Signori, come starete vedendo, benvenuti su Rocket League, tra l'altro che roba è quella Yamaha, ma non lo so, non lo sapremo mai E cioè, guardate qui che figata, il ciamoncino, non camioncino, ciamoncino quello per rapire i bambini, c'è anche il menu, c'è scritto bambini FBI, open up! Cioè, vabbè, non ve lo faccio leggere perché cose incredibili Andiamo su gioca, facciamo casuale, non sono ancora a livello 10 Nelle 4 V4 Ebbene sì, voglio provare le 4 V4, sarà una cosa tipo mind-blowing per quanta gente ci sarà in quelle cacchie di top Però oggi, a parte il joystick che mi sta explodendo, andiamo a scoprire i peggio segreti, i peggio consigli su come vincere, tutte quelle cose incredibili Parola di esperto giocatore di Rocket League, più o meno Che poi, tra l'altro, io ci ho giocato tipo quando ero uscito agli inizi, poi ho smesso di giocarci, adesso che l'ha rimesso, tec che lo riscarichiamo Ma no, perdiamo tempo, 3, 2, 1, vai boys, vai, io credo in voi Eh, vabbè, niente, eh, niente, già esplosioni, alla Wackbar proprio Siamo contro GamePro Germano, quindi mi sa che sono italiani Ok, allora, fratelli coltelli, vedete di farmi una buona partita, perché io c'ho il camioncino ruba bambini E non vorrei fare brutta figura, quindi vediamo di fare i bravi guaglioni, niente Sì, vai, è nostra, dai, non puoi sbagliare Sì, è 1-0, non mal, dopo tra l'altro un minuto e mezzo Oh, vedete l'assist del camioncino, non ho fatto niente Però vabbè, comunque ci abbiamo provato Allora, in teoria, potrei giocarmela in difesa Tipo varie tattiche, c'è chi sta in attacco, c'è chi sta in difesa, c'è chi fa esplodere gli avversari Vabbè, ci sta lo stesso come tattica, not bad Se me la crossa l'è fatta, tu crossami quella palla E madò, se ti faccio un megagol Niente, non facciamo il megagol Ah, tra l'altro metto le mani avanti E la mia seconda Come parata epic, era una parata stupidissima Vabbè, era la mia seconda partita Quindi potrei far totalmente schifo Riparti, Cristiano Rolando Cristiano Rolando Non ha paura di niente, di nessuno Sulla fascia prende il boost Madò, ha sempre lui il controllo Gli avversari cercano di bloccarlo Ma lui imperterrito No, no, è la fine Rip, mega rip Questo ci fa autogol, è un pazzo Mega parata No, che sberla Rilandro Bro, dai Che mega sberla Faccio un bel tir, mia A caso Vabbè Uno pari Ci può stare Comunque esce Premi X per saltare Ma io premo X Ma non salta niente Vabbè, lasciamo perdere Vai, dai Almeno un gol di Cristiano Rolando Lo deve fare Cioè, per forza Tra l'altro nei commenti Mi aspetto un bel hashtag Cristiano Rolando Cioè, ormai È già idolo delle Masse E di Masse Masse, Masse Vabbè Battuta pessima Vai È il mio momento Sì, per forza Non posso sbagliare Non posso Invece ho sbagliato Cioè, non posso Però è successo E vabbè Mi hanno esploso Ah no, sono vivo Esploso il tipo Gol 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 Non ho fatto niente Pensavo di essere esploso Però assist Sì, assist Oh, bravo Martin El Martian Cosa siamo, spagnoletti? Madò, che tensione Cioè, manco una finale di Champions È così tesa Beh, in realtà sì, però Bene Ok, c'era il tipo FK Sì, però Non devi venirmi addosso Dai, fastidio Guarda la botta Guarda la botta No, dai Tra l'altro conviene giocare Con la telecamera sulla palla O no? Secondo me sì Ti prego difendi Ti prego difendi Bravissimo Vai, esplodeteli Sti avversari Cosa credono di fare? Madò, se arrivo cattivo Madò, se arrivo cattivo Vai Ho fatto un mega assist Non potete sbagliare Perché? 3-1 Yes Yes È un tipo pur abbandonato la partita Godo Godo Siamo 3-2 Bitches Oh, vedete Le basi Le basi Eh Quanto esplosa C'è quanto impazzita Sì Cristiano Rolando Oppure mi dà la tripletta A caso Trofei totalmente a caso Sì 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 L'urlo del Sium 4-1 Pulito 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 Madò Che sberle Vabbè, signori Lasciamo perdere Prima partita Subito Ma Vai Cristiano 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 C'ha la palla Davanti a tutti Pallonetto Non va Ma non è ancora finita Cristiano Decide di accentrarsi Con due avversari che lo bloccano Ma non ha paura di niente Niente nessuno Cristiano Ci ha provato Dai Fatemi fare l'ultimo gol Me lo sento Me lo sento No Se la crossavano Era gol Se la dovevi solo Crossare Terò Sì Madò Che prestazione Di Rolando Guarda come salta Guarda come salta E Rolly Sì Salta tutto Salta tutto Un gol E un assist Buono Io direi di fare Pronto Ci facciamo L'ultima partita Perché sto pingando Così tanto Lasciamo perdere Ultima partita E speriamo di vincerla E poi E poi Quando arriverò A livello 10 Classificate tattiche Che ne vale la pena Madò Quanto bello Questo stadio Tipo tema Giapponese Tutte quelle robe lì Figo Bello bello Tra l'altro c'è anche un FK Buono per gli avversari Guarda come me la crossano Cristiano Vai Cristiano No E niente Ho sbagliato tutto Girate E niente Una tartaruga Una volta girate E vabbè Quante sberle mi sto prendendo Mori va Vai 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 Cristiano Cristiano No Dai Ero arrivato di una cattiveria No no Cosa me la lancia via Ah no Me l'avversario Ero arrivato di una cattiveria Vi giuro Non ne avete idea Ho cercato Signore Però però Ho funzionato Allora Sti qua mi sembrano Dei mongoli E non parlo Dei avversari Parlo dei soci Soci Fate schifo Io ve lo dico State facendo schifo Ci pensa Cristiano Ci penso Sulla fascia È il più veloce di tutti Crossino tattico Crossino tattico Sì Sì No 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 Palo Godo Godo Palo Godo Palo Godo Palo Godo Palo Godo Palo ancora Godo Ancora Madò Che ansia Madò Che botta No raga Botta da centro No palo No mi ha lanciato in porta Dai 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 Cristiano 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 Rolando E trofeo predatore Così Dal nulla Sboom Ne approfitta Che sberla Madò Andiamo avanti Palla al centro Madò Signori che sberla Quanto mi fomenta Rocket League Gli eventi mi hanno spazzato avanti Mettiamola così No 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 Rolando devi difendere No gol Eh sto giro Sto giro male Male Onestamente Non stavo giocando Però va bene abbiamo fatto gol Guarda quello come bossi a suicidare 2-1 Buono C'è qualcuno dietro di me Sì C'abbiamo due tizi Quindi parto Ma cosa mi ho Dai Mi ha sabotato Che esplosioni Mi ha sabotato Vai tirai una sberla Allora ci pensa Rolando Ci pensa Rolando No Fido Madò Era arrivato di una carica Ma di una carica Col ciamoncino Ripartiamo No Dai l'ho tolta dalla rete Sì Per forza gol Rolando Rolando Madò Di rovesciata Boys Ma C'è Riguardiamola Pierra Rimandala Sboom Sboom Mega dub per me E pure per Rolando Qui sì che c'è la qualità Oh Non vedo l'ora di andare a fare le classificate Perché c'è proprio Le peggio sverle Ok autocross Auto Bellissimo Spostati Mi ha ostruito un botto Comunque i miei compagni Dire che sono disagiati È un complimento Dai crossatamela Crossatamela Arrivo io Stragatti No Che sfiorata Che sfiorata Ero lì già col tacco Bello pronto Cristiano Rolando Oh bello Bello il tiro da centrocampo lì Entra Entra No Oh la presa Sì Rolando dalla difesa Rolando dalla difesa Che sberla Ma no Ma no Pierre fammela rivedere Guarda questo che imbecil Cosa stavi facendo Stavi andando a funghi Yes Yes 4 a 1 Ma Rolando Ma no Si ha messo la firma Ha messo un botto la firma E devo mettere La pure palla Ok Vai crossa Bello Signori siete carichi Siete carichi per Cristiano Uh Ma no Ogni volta che Cristiano Va in attacco C'è un'ansia Nelle difese Ok ho fatto una cazzata C'è un'ansia Nelle difese Che non avete idea Anzi ora gli facciamo L'attacco dall'alto Vai Sì ma non l'autogol Deficient Vabbè Che compagni imbecilli Imbecilli KKTC KKTC Guarda questo Guarda che cretivo Allora se lo faccia dire È un deficiente Ci penso io boys Ci penso io boys Pazzà Rolando Ne salta 4 Fuori di testa Non ha paura di niente Nessuno La Rove Eh no Non va Non va Vai l'ultimo gol Sì 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 Ma dove siamo Ma signori dove siamo Tripletta E a casa O ne ho fatti 4 È calato il poker O sono ancora in tripletta Non lo so Lo scopriremo tra 7 secondi Letteralmente Ma dai Cristiano Ronaldo Che sbe No Ronaldo Rolando Che sbe Eh niente un altro Sotto l'incrocio Vabbè 3 2 1 Uoooooo Uuuu Uuuu Che sberle Che sberle Cristiano Ronaldo Rolando Primo Però ho fatto 4 gol O 3 gol Ma do 4 gol È calato il poker E anche il silenzio Signori Torniamocene al menu Perché proprio Cioè Basta Smettiamola di umiliare Gli avversari Mi tolgo le cuffie Dopo una vittoria Eclatante Col camioncino Ruba bambini Spero che questo video Vi sia piaciuto In caso voleste altri video Di Rocket League Fatemelo sapere nei commenti Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Da solito Robero l'1.45 Con un nuovo video Ciao Il camioncino Fuori di testa